Buongiorno, sono Luca Battistelli della società in auto-digita. Quest'anno, all'ISIA 2013, portiamo tutti i nuovi prodotti. In particolare c'è il network player NP20, che è un network player completamente controllabile da retro, quindi utilizzando il protocollo Tenet. Sono disponibili anche applicazioni gratuite per il controllo da qualsiasi sistema operativo. Un web server integrato permette oltretutto di controllare il dispositivo direttamente da qualsiasi browser, quindi tablet, smartphone o qualsiasi altro dispositivo. Fondamentalmente uno setting out produce dei audio player compatti, uno degli amplificatori compatti che quest'anno ovviamente riproponiamo per INSEE 2019.